Allora, nuovo incontro questa mattina in comune tra l'NCD e il sindaco Carlo Capacci. Roberto Bellotti, segretario provinciale dell'NCD, ha incontrato il sindaco, avete parlato, se non ho capito male, di programmi, insomma, di quali sono le vostre esigenze a livello di programma. Sì, intanto io ringrazio il sindaco per la disponibilità che ha rappresentato anche in questa occasione per questo incontro. È stata una ragione importante per riuscire ad analizzare un po' più nel merito tutti i profili che possono interessare queste valutazioni e che il sindaco sia riservato di effettuare nell'imminente prossimo futuro, di condividere eventualmente anche con le altre forze politiche, perché dovrà incontrare anche quelle, per poi, diciamo così, tra le somme e valutare tutti insieme quelli che saranno gli esiti di questo discorso. L'NCD ci tiene a sottolineare come, da un lato, questo non è un discorso legato a motivi di poltrone o esigenze di questo tipo, ma solo ed esclusivamente per un miglioramento dell'attività amministrativa, tanto di buono è già stato fatto, ripetiamo che altrettante di meglio si possa ancora fare. Ci tiene anche a sottolineare come intende mantenere assolutamente l'appoggio all'attuale maggioranza. Grazie.